Il gruppo teatrale Zumellese calca i palcoscenici da 25 anni, promuovendo soprattutto il teatro dialettale veneto degli autori minori. Da 23 anni è autore anche del Maggio Teatrale Zumellese, che vede Mel come cornice ideale per la promozione del teatro. A Night and Day, l'edizione 2009. Ciao Giorgia, comincio con la descrizione del gruppo teatrale Zumellese. Il gruppo teatrale Zumellese nasce nel 1984 grazie all'impegno di alcuni giovani cultori del teatro, pertanto quest'anno ricorre il venticinquesimo dalla fondazione del gruppo. Il gruppo si è posto fin da subito al duplice obiettivo di divertirsi attraverso la realizzazione di uno spettacolo teatrale e nello stesso tempo di divertire gli spettatori con la magia del teatro. Fin dall'inizio il gruppo si è dedicato alla riscoperta di testi poco noti del teatro veneto e alla loro divulgazione al pubblico belunese e di altri luoghi della provincia e della regione con all'attivo oltre 200 repliche. Questo impegno di divulgazione del teatro è passato poi attraverso l'organizzazione di una rassegna teatrale, che quest'anno è giunta alla sua ventiduesima edizione, che tradizionalmente si svolge a cavallo tra i mesi di maggio e di giugno. Manifestazione di teatro amatoriale tra le più longeve della provincia. Il filo conduttore che ha sempre guidato il gruppo nella scelta delle compagnie da ospitare sul palco zumellese ha sempre portato alla ricerca e alla valorizzazione delle compagnie amatoriali di valore che riscuotano successi nell'intero nord-est, portando la conoscenza del nostro pubblico. Analogamente si è cercato anche di valorizzare quelle nostre piccole realtà locali, inserendo nel cartellone della rassegna anche spettacoli di gruppi amatoriali, come gruppi di scuole e gruppi di volontariato, accanto alle compagnie più blasonate. Passo ora la parola alla mia collega Valentina, che entrerà più nel dettaglio nei contenuti della rassegna di quest'anno. Grazie Alessandro. Ciao Giorgia. Il ventiduesimo edizione del Maggio Teatrale Zumellese sarà inaugurato sabato 30 maggio con lo spettacolo E Giuditta aprì gli occhi di Carlo Ludovici con la compagnia vittoriese del Teatro Veneto. Mercoledì 3 giugno sarà il momento del Mago di Oz, spettacolo presentato dalla classe quarta della scuola primaria di Melle, spettacolo che è frutto di un laboratorio teatrale che i ragazzi hanno frequentato durante l'anno scolastico. Sabato 6 giugno, moglie o attrice, spettacolo di Enric Meillac e Ludovic Alevi, presentato dalla compagnia Il Nodo Teatro di Brescia. Sabato 13 e domenica 14 giugno sarà l'appuntamento doppio presentato dal gruppo teatrale Zumellese. Quest'anno presenteremo Camere da letto, una commedia in tipico stile britannico di Alan Eichwurn. Quest'anno noi porteremo in scena tre camere da letto per l'appunto in cui verranno presentate le vicissitudini di quattro coppie. Queste coppie sono legate tra di loro sia da legami familiari ma anche da riti quotidiani che si aggrovigliano con esiti imprevisti. L'ultimo appuntamento è sabato 20 giugno con lo spettacolo del gruppo Gio di Mell. Il gruppo Gio è un gruppo di ragazzi attivo nel territorio Zumellese da diversi anni che si cimenta anche nell'ideazione e nella progettazione di spettacoli teatrali. Quest'anno presenterà erano quattro bruttini, strani e anche mal assortiti. Gli appuntamenti della ventiduesima edizione del maggio teatrale Zumellese quindi saranno dal 30 maggio fino al 20 giugno. Avranno luogo presso la palestra comunale di Mell con inizio alle ore 21. Il maggio teatrale Zumellese viene organizzato con il patrocino del comune di Mell, la collaborazione della Proloco Zumellese. Potete contattarci all'indirizzo email gtz.teatromell.it e per eventuali informazioni potete visitare il sito www.sinistrapiave.it Grazie